La lotta tra il bene e il male. Questo è il tema scelto per la presentazione degli elaborati della sesta edizione del concorso letterario Festival dell'Altrove, dedicato all'antropologo e scrittore Giulio Angiuni. A Guasila è tutto pronto per dare inizio alla manifestazione che, dopo le serate di antiprima del Festival nei fine settimana di settembre con Assu, Scuria, Druju in Bicinau, entreranno in vivo oggi, venerdì 7 ottobre, per proseguire domani e domenica 9 ottobre. Le giornate del 29 e 30 ottobre invece saranno dedicate alla premiazione dei vincitoli del concorso letterario. Il concorso letterario è stato voluto, anche per questa edizione 2022, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Guasila, in collaborazione con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Siamo felici di essere arrivati alla sesta edizione del Festival. Per noi la manifestazione ha e conserva sempre, ha dichiarato la sindaca di Guasila Paola Casula, la duplice funzione di promozione della lettura e della scrittura. Il Festival ritorna dunque al formato iniziale, con le tre giornate culturali, con la presentazione di diversi libri, convegni e cinema, per concludere con l'ultimo fine settimana del mese dedicato alla premiazione di partecipanti al concorso letterario. Tanti gli ospiti che nella tre giorni di appuntamenti, reading letterari, musica, proiezione di film, sabato 8 è prevista la proiezione del film Bentù di Salvatore Mereu, e incontri, presenteranno le proprie opere e dialogheranno con il pubblico. Il programma dettagliato dell'intera manifestazione è disponibile nella pagina Facebook del Festival.